Un saluto dal Tg della mobilità, domani in città non una di meno, manifestazione contro la violenza sulle donne. In centro città è in programma un corteo domani pomeriggio tra Piazza della Repubblica, Lesquilino e San Giovanni. Per quel che riguarda la viabilità sono previste chiusure al traffico e deviazioni per 28 linee di bus e per i tram 5 e 14. Durante la manifestazione di domani pomeriggio sarà inoltre possibile la temporanea chiusura della stazione metro di San Giovanni. Dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it